Gli agenti del compartimento di polizia stradale Molise e Campania, coadiuvati dal personale della Polslada di Napoli, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di tre pregiudicati di Napoli, accusati di aver commesso almeno tre furti di autovetture. Particolarità dei colpi è che tutte le auto erano esposte in vendita in diverse concessionarie nel Salernitano. Due colpi messi a segno in un solo giorno con lo stesso modus operandi, armando Climenti e Gennaro Capasso, questi nomi degli indagati, dopo essersi presentati per la firma presso la stazione dei Carabinieri di loro competenza, partivano per il Salernitano ed entravano nel concessionario chiedendo di visionare le auto esposte in vendita, in modo che riuscivano a rintracciare il luogo in cui custodivano le chiavi per poi rubarle. Successivamente uno dei componenti della banda rientrava indisturbato con le chiavi rubate e andava via con l'auto insieme ai complici che lo seguivano a bordo di un'altra vettura. Gli agenti della Polstrada sono riusciti a risalire ai tre pregiudicati grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia delle concessionarie vittime di furto, sia di quelle lungo la rete autostradale. I tre uomini finiti in carcere, secondo gli agenti della Polstrada, sarebbero dei veri e propri professionisti del settore e le indagini proseguono per verificare se i tre abbiano commesso altri furti negli ultimi mesi con lo stesso modus operandi. L'operazione Odierna ha stroncato un fenomeno che stava provocando un grande allarme fra i commercianti del settore, considerando che spesso i veicoli esposti non erano per ovvi motivi assicurati per il furto.